Non prendere come oro colato tutto quello che ti dice il web, in molti casi infatti la realtà è ben lontana dall'essere realistica. Chi ti dice che vivere in camper si spende poco, chi ti dice che mediamente in coppia, come ad esempio noi, si spendono sulle 800 euro mensili, beh, prendila come una mezza verità, in questo video ti spiego perché. Prima di cominciare però ti voglio far vedere dove siamo in questi giorni, un parcheggio tranquillo davanti al golfo di Patrasso. Grazie a tutti. 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 Il mondo molto minore rispetto a chi invece lo fa rollare sull'asfalto. I consumi sono legati anche alle stagioni, ai luoghi dove si sceglie di viaggiare. Chiaro che se durante l'inverno mi decidi di fare un viaggio in Siberia, i costi saranno maggiori visto l'uso quasi obbligatorio del riscaldamento H24. Ha mica troppo vento là dietro, Fantozzi? No, grazie signorina, io sto benino. Se invece splani dolcemente verso luoghi dalle temperature più miti, le cose cambiano. Se mi vai in Norvegia dove una perretta ti costa 6 euro, chiaramente le spese saranno maggiori. Se invece scegli ad esempio il Montenegro, con 6 euro ti abbuffi al ristorante. Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto. Possono piacere o non piacere e su questo io non discuto. Ad ogni modo a me la grigliata di pesce ratto piace da morire. Purtroppo non posso realmente comprare il costo della vita in camper rispetto a quella di un appartamento non vivendoci più da oltre dieci anni e non avendo un'idea chiara di quelle che sono le spese, soprattutto dopo gli aumenti dei prezzi dell'ultimo anno. Scrivilo tu nei commenti in modo da capire e far capire qual è la forchetta riguarda le spese. Una cosa è sicura per noi, non abbiamo la spada di Damocle sopra la testa o meglio, non abbiamo lo stress delle spese fitte. Quelle spese che ogni mese arrivano sul tavolo di casa e che bisogna affrontare. Personalmente trovo che sia una buona dose di stress che riesco ad evitare di avere della mia vita. Il semplice fatto di sapere che la tua mera esistenza su questo pianeta, in base a tutto ciò di cui ti sei circondato, costa un tot. E quello è. Ed ogni mese devi uscirlo. Ogni mese quel tot non cambia, a meno che tu non decida di cominciare un percorso minimalista. È un cambiamento verso una vita più semplice. Quel tot, indipendentemente che tu abbia un lavoro o meno, che tu sia felice o meno, che tu stia bene o meno, deve uscire fuori dalle tue tasche. Tutto quello che avanza lo puoi spendere invece per goderti la vita. Bene, la nostra situazione è leggermente diversa. Spendiamo quello che guadagniamo per goderci la vita e quel tot al mese, che in realtà non abbiamo, è modulabile in base a tanti fattori. In periodi di ristrettezze economiche, come è successo in passato ad esempio, ci spostavamo molto meno, in modo da limitare i costi legati al carburante oppure trovavamo soluzioni alternative per portare la pagnotta sul tavolo. La domanda magari ti arriverà spontanea. E Armando, come fai per la pensione? Beh, escludendo il fatto che non la vedrò mai, visto che non sono nemmeno residente in Italia, il lavoro che stiamo facendo adesso è proprio quello di costruirci una pensione basata su delle entrate passive per il futuro. Preferisco comunque godermi la vita quando ancora ho la possibilità a livello fisico e mentale che invece aspettare la tranquillità economica in età avanzata. Ma vediamo a noi quanto abbiamo speso a gennaio del 2023. La risposta è un botto. Eh già, abbiamo speso molto rispetto alla norma. Ma andiamo a vedere tutto in dettaglio. Partiamo dal totale. 3.475 Ma porca di quella p***a! Ma come c***o abbiamo fatto a spendere tutti questi soldi? Cioè, un mese dovevamo fare porca di quella p***a! Cioè, non può fare tutte queste p***e, queste p***e! Eh... Scusa, parlavo con la mia commercialista. Ah, mappa che totalone! Miga noccioline! Ok, ok, adesso andiamo a vedere realmente come sono stati spesi questi soldi. In realtà dovrei togliere dal totalone la cifra di 1.800 euro che non riguardano realmente le nostre spese di viaggio, bensì un ponte e delle sedute dal dentista per sistemarmi i denti, appunto. Quindi, tolta quella cifra e anche il dente, arriviamo a 1.675 euro, che comunque non è poco, contando che alcune voci di spese annuali non sono state contate, come ad esempio l'assicurazione, che più o meno mi costa sui 12 euro al mese, oltre all'affitto della piazzola al camping Lamartina, che si aggira sui 115 euro al mese. Però rimane il fatto che queste spese, anche se non riguardano prettamente il viaggio, sono da affrontare, a meno che tu non vogli andare in giro con un sorriso con i bughi. Andiamo adesso a disossare queste spese mensili, così ti faccio vedere che questa famosa van life non è così economica come la dipingono. Abbiamo diviso i costi in diverse categorie. Al primo posto, forse quella più alta, ovvero i consumi di carburante, sia per il motore che per il riscaldamento, come nel mio caso, e GPL per avere acqua calda dentro al camper. Nel mese di gennaio, avendo girato in lungo e largo la Lucania, dal mare ai Calanchi, dal parco del Pollino alle distese verdi delle zone interne, abbiamo speso... 444 urini in fila per tre con il resto di due. Quando si viaggia, chiaramente, la voce carburante è quella più elevata, che si può ridurre spostandosi di meno. Nel 2017, ad esempio, quando esploravamo per la seconda volta il Portogallo, nella zona dell'Algarve e dell'Alentejo, i consumi probabilmente erano quasi la metà, contando comunque un costo del carburante di circa 1,30 euro al litro. Adesso che quasi arriva a 2 euro, la seconda voce delle spese riguarda la spesa, appunto. La provvigione di alimenti è di... 474 eurini. Anche questa voce può variare in base al paese dove si viaggia, in base alle proprie abitudini alimentari e in base a quanto si vuole mangiare. Noto rispetto ad anni precedenti un aumento in questa spesa, dovuta probabilmente all'aumento dei prodotti in generale. Un paio di anni fa ci aggiravamo intorno ai 100 euro settimanali, mentre in questo caso siamo intorno ai 120 euro a settimana. Non è un aumento drastico, come invece quello del gasolio, ma che comunque a fine mese porta a spendere qualcosina in più. In questa voce di spesa, il più delle volte non ci facciamo mancare nulla, anche con dei piccoli regali per quanto riguarda cibo e vivande. Due bistecconi di mucca podolica, ad esempio un caciocavallo intero fatto poi in piccato e qualche buona bottiglia di vino aglianico del Volture. Ecco, diciamo che solo queste tre cosette spiegano l'impennata dei costi di questo mese. Che ci possiamo fare se siamo due buone forchette e ci piace gustare prodotti a chilometro zero aiutando l'economia locale? La terza voce invece riguarda alcune spese di viaggio, come ad esempio aree sosta, autostrade, parcheggi, campeggi, il wifi e alcuni dei nostri vizi come quello del fumo. Totale per questa voce è di 217 urini. Viaggiare a tempo pieno in camper non vuol dire parcheggiare solo in libera per fare la figura dello stoico eroe. Vuol dire far lavorare anche le realtà locali, prendersi una pausa dal viaggio, avere una giornata senza stress del parcheggio, del carico, dei pannelli solari. Vuol dire riuscire a lavorare anche quando la meteo è avversa. In tanti sono bravi a farti credere che passano 365 giorni all'anno solo in libera. Si vede che quando anche loro si recano nei campeggi hanno la batteria dalla videocamera scarica e non riescono a documentare quel momento. Che sfiga, eh? Però sai com'è, sti full timers mica possono abbassarsi a livello di tutti quelli che diridono perché scelgono un campeggio o una rasosta, no? Si! Eh no, loro sono superiori. E anche un po' paracuri. E poi se gli fai due battute si indignano. Tornando a noi, continuiamo con la quarta voce, ovvero la manutenzione del mezzo. Una voce che in tanti non inseriscono nelle spese ma che ha un'importanza vitale. Noi senza un mezzo funzionante siamo nella cacca, quindi la manutenzione è di massima importanza. E non sto parlando solo di quella classica, come ad esempio cinghie, olio, filtri, chi più ne ha più ne metta, ma anche quella preventiva. Non è mai una brutta abitudine portare il mezzo dal meccanico per verificare lo stato delle cose, controllare e verificare se è tutto a posto prima che si manifesti un problema. Oltre a questa manutenzione, ho messo in questa voce anche le spese di manutenzione straordinaria. Come ad esempio, nel nostro caso, dopo aver visto che durante il periodo invernale non riuscivamo a caricare a dovere la batteria al litio. Abbiamo optato per un secondo caricabatteria ad alternatore della Victron, che ha i suoi costi, ma come sempre per noi è un investimento su una nostra casa mobile che ci porterà i benefici in futuro. Il totale per questa voce è di 318 eurini. In questa voce non ho menzionato la riparazione e sostituzione del bracere del nostro V-Basto. Un costo di circa 280 euro contando la mano d'opera e i pezzi di ricambio. Fatto dai ragazzi di Subitocamper. Ho cercato in vano di pagare i ragazzi, ma non hanno voluto sentire altre parole. Posso solo ringraziare Federico e Davele per la loro gentilezza e per aver reso le nostre spese mensili più leggere. Grazie ragazzi! Se ti interessa, guardati il video dei lavori che ho fatto da loro, oltre che a vedere tre allestimenti molto particolari. Te lo ho letto qui in Tendila e anche nella descrizione del video. Andiamo avanti con la voce di spesa chiamata... In realtà non l'abbiamo nominata. Diciamo che sono le nostre spese. Ad esempio, ho comprato un paio di scarpe dopo che le mie stavano cadendo a pezzi. Trucchi e parrucchi per la signora. In realtà solo trucchi, visto che i capelli si ritaglia da sola. Una carta per la mia nuova camera. E così via. Totale 222 euro. E così, con tutte queste spese, siamo arrivati al totale che ti ho detto all'inizio di questo video. E se poi ci aggiungi il dentista, l'assicurazione del camper, l'affitto della piazzola al campeggio... Ah, beh, non sono mica noccioline! Tutto questo per farti capire che vivere in camper non è proprio così economico come dicono in tanti. Ha dei suoi costi, per non parlare poi degli imprevisti. Bisogna sempre avere le spalle coperte in caso di imprevisti o di costi inaspettati, come una rottura meccanica o magari una multa. Beh, puoi sempre chiedere ai followers, no? Si fa così, eh? Scusa, ma sto cercando di imparare in fretta dalle nuove generazioni. Torniamo quindi alla mitica frase... Statene a casa! Come ho detto, non ho idea se costa di più o di meno, però almeno ti eviti un sacco di sbattimenti. In questi anni abbiamo visto molti partire all'avventura e dissolversi velocemente nel nulla, perché oltre ai risparmi, per cominciare un viaggio, bisogna anche avere le idee chiare su come il viaggio lo si vuole sostenere a livello economico. Purtroppo non si può prendere come oro colato la maggior parte delle informazioni che arrivano dal web per quanto riguarda le spese, appunto. In primis perché sono assolutamente soggettive e possono cambiare da persona a persona. Sicuramente i costi sono aumentati, lo stiamo percependo noi adesso che ci siamo messi di buzzo buono a tenere i conti. Non dico che sono raddoppiati rispetto a qualche anno fa, ma ci andiamo molto vicino. Il più delle volte sono piccoli aumenti, pochi centesimi, ma che alla fine del mese portano alla differenza. Tutti questi costi sono buttati giù senza nemmeno calcolari vari ed imprevisti. E se mi rompo un piede? E se mi faccio male? Pronto soccorso? Ospedale? Medicina? E quant'altro? Oppure in caso di rottura del mezzo, l'affitto di un B&B o di un appartamento, bungalow, tenda, capanna o calerna? Sono tutti rischi che ci prendiamo, cercando il più possibile di stare attenti, sia a noi stessi che alla nostra casettina mobile. Aggiungi anche le spese che in questi anni abbiamo affrontato per i nostri due pelosi, antirabbica, titolazione, visite medicinali e operazioni. Insomma, mi spiace, magari tarparti le ali, ma la vita in camper non è proprio così economica come in molti vogliono dipingere. Ci sono dei costi e quelli non variano. Si possono trovare sicuramente molte soluzioni, ad esempio per risparmiare su questi costi. Quando abbiamo cominciato a viaggiare, ad esempio, barattavamo la nostra professionalità in campo comunicativo con realtà di accoglienza per camper. Un video in cambio di una settimana di campeggi in Scozia, ad esempio. Oppure per permetterci alcuni extra. Una volta ho barattato un mio video per una scuola di surf in Cantabria, con una tavola da surf ha funzionato. Stesso discorso vale, ad esempio, per altre nostre necessità, come ad esempio il wifi, che da più di un anno riusciamo ad avere a costo zero, grazie alla collaborazione con Connect Plus, avendo a disposizione la connessione in più di 130 paesi al mondo. Se vuoi dare un'occhiata a questa soluzione per il wifi, ti metto tutti i link, come al solito, in descrizione del video. Ma quindi, fammi capire, quelli che dicono di spendere solo 800 euro al mese? Beh, come ho detto all'inizio di questo video, sembra più una mezza verità. Ma diciamo che i costi minimi potrebbero essere di 800 euro al mese, che comprendono il carburante per il camper e il carburante per i due esseri viventi. Il cibo, intendo. Ma tutto il resto? La manutenzione del mezzo, che alle volte può essere molto salata. Altre spese di viaggio, come ad esempio autostrade, traietti a risosto, campeggi. E le spese personali, dove le mettiamo? Bollo, assicurazione, spese mediche. E in quanto tempo ammortizzi l'investimento iniziale di un camper? Ciao, sono Arturo, bimbo minchia. Ho speso solo 70.000 euro per comprare il mio primo furgone camperizzato. Anche questa va a valare. Ma te sei scemo? Ultimamente, poi, mi sembra che la situazione sia leggermente scappata di mano. Dove, pur per riuscire ad apparire, si approcciano progetti megalomeni in cui io realmente non trovo il senso. Ha senso investire tempo e denaro per un camper che su strada consuma 4 litri al chilometro ed è ingombrante come un cargo merci? Beh, anche nei mitici anni Ottanta c'era chi si comprava il Porsche Carrera, poi lo lasciava fermo, visto i costi per farlo muovere. Poi, ognuno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe, ma l'utilizzo del cervello non dovrebbe essere di dominio pubblico. Tante volte proprio non capisco. Aspetta, ti faccio un disegnino, così magari tu capisci. Vivere in camper e spendere di meno, forse, uguale a non essere obbligati a guadagnare tanto, ma al giusto, uguale a non lavorare eccessivamente per guadagnare. Ma pur sempre lavorare, uguale a godersi la vita. Io la vedo così e tu invece fammolo sapere nei commenti. E puoi anche farmi sapere quanto spendi dentro una casa o un appartamento. Dimmelo perché veramente non ne ho la più pallida idea. Forse quelle che sono le mie spese, che personalmente reputo alte, magari risultano minime messe a confronto. E magari mi mandi pure a fa... Scrivi nei commenti in modo da diventare luogo di discussione e di confronto, per andare a capire veramente se questo stile di vita può o non può sollevare qualcuno dalla famosa spada di Damocle, o dal cuneo fiscale, o dall'impennata dello spread. E con questo è tutto anche per questo video. Spero sia stato di tuo gradimento e spero che ti abbia fatto capire che questo stile di vita non è sempre rosa e fiori. Anzi, molte volte è solo sterica e fango, che devi pure pagà. Metti un bel pollicione su se non vuoi trovare le gomme del tuo camper bucate. Se invece il video non è stato di tuo gradimento, fai finta che non mi conosci. Ciao! 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 Ciao!